L'Asri di Teramo ha avviato le procedure per far tornare gli ospedali all'assetto che avevano a fine 2019, cioè prima dell'inizio dell'emergenza Covid. Questo significa che i reparti che erano stati accorpati nel marzo del 2020 per consentire la creazione di reparti Covid torneranno alle loro autonomie, recuperando così tutto il personale che era stato destinato a fronteggiare l'emergenza. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell'azienda sanitaria Teramana, Maurizio Di Giosia, che ha spiegato la riorganizzazione che i quattro nosocomi stanno effettuando, riassetto che sarà completato entro la data del 26 settembre, giorno in cui lo smaltimento delle ferie estive del personale sarà terminato. L'emergenza Covid non è finita, però noi dobbiamo tornare alla normalità, a tutto ciò che era l'organizzazione sanitaria nel 2019. Pertanto ecco, abbiamo fatto un incontro con la responsabile professione infermieristica e con tutta la direzione strategica, per ricominciare un po' nella normalità. Difatti tutti i reparti che erano accorpati, adesso torneremo come era nel 2019. In pratica San D'Omero, già dal primo settembre, sono stati riorganizzati i reparti di chirurgia e ortopedia, ognuno adesso ha la propria sede come era prima. Per gli altri ospedali, da Giulianova, dal 26, ortopedia e chirurgia torneranno ad essere separati. Stesso discorso vale per la chirurgia e ortopedia di Atri. Invece, per quanto concerne l'ospedale di Teramo, da oggi torneranno ognuno nei propri reparti la chirurgia vascolare e urologia e dal 26 settembre otorino e chirurgia toracica. Quindi, in questo modo, ognuno riprenderà il proprio reparto e cercheremo appunto di tornare nella normalità. Resta tuttavia il problema della carenza di personale medico, come gli anestesisti, ma anche i medici di pronto soccorso, pediatri e cardiologi. Per questo motivo la ASLE è al lavoro per trovare una soluzione che possa tamponare la grande difficoltà che non riguarda solo Teramo. Stiamo chiedendo aiuto anche all'Università dell'Aquila, visto che l'Università ha degli specializzanti e se possiamo incrementare questo rapporto con la Facoltà di Medicina dell'Aquila per far sì che ci diano più specializzanti e cominciamo quindi ad avere anche una squadra che possa essere fidelizzata con Teramo.